Allora i saluti finali del dottor Francesco Barbagli, fondatore della rete Biodea e poi come dicevamo vi anticiperemo un po' quelli che sono gli argomenti del workshop del 4 di dicembre, una piccola novità per il 2021, però lasciamo questa sospensione, prego. Un ringraziamento sentito, ma un ringraziamento veramente forte a tutte le aziende agricole di qualsiasi dimensione, di qualsiasi natura, dal privato all'amante del giardino, al coltivatore importante in termini sia di quantità che di qualità, che ci stanno dando ogni settimana sempre più fiducia e fiducia in maniera impergnante. Questa fiducia viene rimessa con tutto ciò che stiamo lavorando di settimana in settimana, vendendo e utilizzando il distillato di legno, rinvestendolo totalmente in ricerca, diffondendo sempre più conoscenza e applicazioni del distillato di legno. E per noi ad oggi che ci finanziamo direttamente con ciò che riusciamo di giorno in giorno a lavorare e a mettere in campo, è fondamentale il coinvolgimento ed la vicinanza di tutti gli utilizzatori. In questi anni probabilmente abbiamo dato e stiamo dando un grosso contributo ad affrontare la coltivazione agricola in termini e in modi differenti rispetto ad un'agricoltura convenzionale conosciuta negli ultimi 70 anni, ma sicuramente è più ciò che impariamo che ciò che stiamo dando e dando come informazioni. Per noi è fondamentale quando ci arrivano i feedback di qualsiasi tipo di applicazione, in qualsiasi tipo di cultura, perché poi è utile ed è fondamentale per andare a lavorare, approfondire insieme qualsiasi tipo di interazione che c'è sulla coltivazione, perché poi in ogni ambiente si cambia il tipo di tessitura di terreno, la fascia fitoclimatica e agenti patogeni che ogni volta intervengono e intervengono in maniera differente. Quindi la conoscenza è alla base di poter poi dare risposte e risposte concrete. Stiamo sempre più maturando questa nostra convinzione che la consociazione del distillato di legno biodea, che è estratto con un'attenzione quasi maniacale nel andare a cercare le essenze vegetali migliori che si sono prese da zone antropizzate, da dove ne seguiamo la filiera fin dall'inizio del taglio, alla consociazione con microorganismi utili, che prima il professor Deales ha illustrato molto bene, è forse il connubio migliore per concepire come si può oggi coltivare in agricoltura, nel rispetto dell'ambiente e dell'agricoltore che utilizza i prodotti, ma molto, e ne parleremo poi nel prossimo appuntamento del 4 di dicembre, quanto questa passione, questo tipo di coltivare con prodotti naturali ed importanti si trasferiscono poi nei valori nutraceutici degli alimenti e che sono fonte utile e necessaria per la nostra sostegno e alimentazione. Molte volte si assiste a dei sistemi di coltivazione che si concepisce di interventi importanti per fare un'igienizzazione, rendere l'ambiente sterile per evitare che ci siano attacchi patogeni. Prima il professor Deales ha parlato di come nell'ambiente un microorganismo combatte contro l'altro cricormanismo. In natura poi un altro concetto, un concetto che voglio citare brevemente, è che non esistono spazi vuoti, quindi pensare di coltivare, igienizzando continuamente è una tecnica che non ha portato in questi 70 anni da nessuna parte se non quella di aumentare questo tipo di pensiero. Quindi è importante nel momento in cui si fanno azioni di qualsiasi tipo pensare che cosa succede un minuto dopo nell'ambiente e quindi questa interazione fra il biochar, che proviene sempre dal processo della trasformazione della biomassa che ha lavorato nell'ambiente, il distillato di legno, i microorganismi, lo riteniamo come il miglior connubio oggi conosciuto e il più antico di tutti che è sempre stato vicino a noi, come la risposta alla risultanza migliore per un'agricoltura sostenibile. Io ringrazio, ringrazio veramente tutti per l'attenzione e ci rivediamo per la prossima appuntamento il 4 di dicembre.